buongiorno a tutti allora come si dice mi tocca il lavoro sporco cioè l'arte contemporanea partiremo allora intanto mi scuso con perché assolutamente non potrò essere esaustivo sul discorso del genere anche perché l'ultima volta che l'abbiamo fatto abbiamo impiegato otto conferenze di due ore quindi adesso dobbiamo cercare di condensare un 16 ore in un'ora cercando di dare spazio alle domande che sono anche la cosa più interessante anche perché non capiamo niente in questo momento a meno che uno non sia un addetto ai lavori sembra che siano impazziti tutti giusto e sono convinto che buona parte di voi sotto sotto pensi che dall impressionismo in poi soprattutto da picasso in poi l'arte è morta invece siamo in un punto meraviglioso grandioso e quindi vorrei cercare di capire insieme potete interrompermi in qualunque momento farmi domande in qualunque momento io poi vi azzittisco vado avanti ma sentiatevi liberi di fare questa cosa cerchiamo di capire quali sono le motivazioni che cos'è successo cioè non è che a un certo punto un artista si è svegliato e ha detto famolo strano e tutti hanno detto ah che bello sì facciamolo così e sono diventati matti no c'è un lavoro enorme e siamo in un momento siamo stati nel novecento in un momento di passaggio in una rivoluzione veramente storica e siccome l'arte non è altro che un'esigenza dell'uomo perché se ci pensate è un'esigenza non c'è stato mai un periodo nella storia da quando noi la conosciamo dove l'uomo non abbia avuto l'esigenza di fare arte cioè di portare di rendere visibile qualche cosa che percepiva ma che non era immediatamente visibile e di comunicarlo i cambiamenti nella storia dell'arte che non sono sicuramente lineari ma seguono questi percorsi molto strani si ripetono e diciamo che sono come in ogni cosa abbiamo sentito anche dai vari relatori prima di me cambia il punto di vista cambia il livello cambia lo scalino cambia il quel grado di raffinatezza di coscienza che è tipico del dell'uomo in quel momento quindi l'arte non è altro che uno specchio proprio dell'uomo e come tutto il resto molti storici molti e i critici sostengono per esempio che l'arte derivi cioè il modo di fare arte sia molto legato per esempio all'elemento sociale politico del momento all'elemento alle scoperte tecnologiche a tutti questi elementi è giustissimo però queste sono tutte conseguenze sono tutti aspetti che ovviamente viaggiano paralleli del momento evolutivo dell'uomo ok sarebbe stato interessante anche arrivare per esempio a michelangelo ma non possiamo bene perché questa cosa perché noi partiamo idealmente così dal rinascimento allora tutta la prima parte la faremo veramente veloce e cercheremo di concentrarci su quello sulla fine sono imbrigliato ma allora rinascimento rinascimento momento fantastico momento in cui nell'arte almeno finalmente l'uomo è completo ci siamo il momento in cui nasce l'artista il momento in cui l'artista prende coscienza di sé il momento in cui l'artista si permette di mandare a ranare i papi cosuccia no e viene lasciato vivo quella storia è la cosa interessante il momento in cui il momento in cui per esempio nella scultura e questo anche nella pittura eccetera ma il momento in cui compaiono non compare più un unico personaggio rappresentativo per quel momento storico dell'arte ma per esempio sono sempre almeno tre in questo caso li conosciamo tutti nel secondo rinascimento sono raffaello michelangelo e leonardo pensiero sentimento eccetera ma adesso cerchiamo di vedere io aprirei con questa qua che è la pietà bandini e la pietà dell'uomo di firenze perché è proprio diciamo esplicativa del momento è la prima volta per esempio nella storia dell'arte che nella scultura io sono scultore e quindi ho sempre un occhio di riguardo nella scultura allora compare un doppio gesto un doppio movimento prima ne avevate uno cioè o in espansione o in contrazione o morte o vita o espansione contrazione tutto quanto adesso per la prima volta ne compaiono due due contemporanei ci siamo se noi per esempio osserviamo questa forma che rilke come dicevo ieri a quelli del corso rilke definisce una sorgente d'ombra abbiamo questi due elementi da una parte un qualche cosa veramente che sale quindi che partendo dalla parte più concava più buio eccetera eccetera dal ginocchio di cristo attraverso il giro del busto e la forma di nicodemo spinge e porta verso l'alto quindi qualcosa che sale dall'altra parte che parte ovviamente nel punto di maggior forza dell'elemento invece che muore dall'altra parte voi avete questo elemento molto forte della molto più spigoloso eccetera dell'elemento della della figura del cristo che crolla ora il punto di partenza il punto di si di partenza di questi due gesti sta nel centro del gesto polari e questo se ci pensate richiede una centratura molto forte cioè solo se io sono assolutamente fermo posso tenere e guidare due elementi bene adesso però come simbolo del rinascimento io l'ho presa perché se noi andiamo al di là del fatto che sono tre figure che sorreggono un cristo morente o morto eccetera eccetera e proviamo a guardare questa forma semplicemente come forma vediamo che queste tre figure per esempio si legano alla figura del cristo in maniera molto diversa la figura della maddalena che tra l'altro è stata rifinita da un altro alla sinistra alla vostra sinistra per esempio si lega aspettate che con la coda non sono abituato si lega attraverso il giro degli arti in un cerchio quasi perfetto con la figura del cristo uno prendete la figura della maria madre e si lega dovremo essere leggermente spostati di là ma anche da qua si si lega attraverso il giro del busto alla figura del cristo la figura del nicodemo pensiero si lega attraverso il giro delle teste qui avete il rinascimento qui avete l'uomo completo qui avete il simbolo di michelangelo qui avete l'uno e trino qui avete l'io da un equilibrio delle trasfere abbiamo tutto questo possiamo dire è il momento di partenza fondamentale per per quello che noi attualmente possiamo interpretare o pensare come arte artisti ok bene adesso partiamo col lavoro vero michelangelo va decisamente oltre però e per la prima volta poi lo terminano dall'alto ma diciamo che lui allora una particolarità questo due pietà sono le uniche due opere di michelangelo non fatte su commissione cioè sono lavori che lui fa per sé la storia che di queste pietà è molto interessante ma la faremo un'altra volta qui abbiamo lo stesso elemento di prima solo che è praticamente asciutto quasi astratto questa forma era completamente diversa i bozzetti per questa forma sono questi il corpo del cristo era molto più avanti la figura della maria era molto più avanti questo in studio noi abbiamo anche le pubblicazioni dei processi che sono stati fatti al proprietario un brianzolo un edile brianzolo di questa scheggia tolta da michelangelo è la vecchia parte del del cristo è il volto del cristo prima che lui la trasformasse questo è praticamente un montaggio di come doveva essere inizialmente questa parte michelangelo praticamente sta male sembra che muoia ormai lo considerano finito si riprende e finisce molto velocemente naturalmente la storia un po romanzata dice che si alza lavora tre giorni poi muore ovviamente magari lavorato 4 ma non suonava così bene cambia completamente la forma fa un qualche cosa che per il momento del rinascimento è quasi assurdo cioè si avvicina a uno stile più romanico non gli interessa minimamente di avere lo spazio per gli arti cioè comincia a eliminare delle cose che ai tempi era impensabile eliminare però lascia il braccio del vecchio cristo il braccio del vecchio cristo tra l'altro è legato con un piccolo ponte di di marmo proprio perché non si rompa ci sono critici illuminati che nella loro coglionaggine dicono che lui non fa in tempo a togliere questo braccio un braccio che può essere tolto con un calcio perché è veramente sottile bene cosa abbiamo qua intanto abbiamo in maniera incredibilmente visibile questo doppio gesto nella parte in alto nell'unico punto concavo reale di quella parte scende questa cosa proprio piomba giù andate a vederla adesso tra l'altro in una collocazione anche degna di nota invece dalla parte bassa veramente tutto sale porta verso l'alto quasi questo elemento di goccia e nel momento in cui riuscite a cogliere questi due punti di partenza diventa veramente fantastico diventa immenso questo gesto sia in alto che in basso ma la cosa più interessante che è quella che ci interessa di più è che succede qualcosa girando intorno alla forma se voi vi mettete da una parte tutto è assolutamente pesantissimo tutto porta verso il basso nel momento in cui ci spostiamo la figura del cristo e quindi è andata bene la figura del cristo spinge verso l'alto la figura della maria cade pesa se ci spostiamo di nuovo e questo penso che sia stato voluto la figura della maria invece sostiene il corpo del cristo e il cristo scende se ci spostiamo ancora la forma vola via e questo è possibile solo grazie al fatto che lui lascia il braccio del vecchio cristo togliendo il braccio del vecchio cristo avremmo avuto la stessa sensazione che dall'altra parte bene questo perché è importante perché anticipa così tanto perché è moderno è facile vabbè vediamo come è comportata la seconda domanda questa è andata perché è la prima volta in cui si porta un elemento spaziale in un elemento temporale quindi è la prima volta in cui noi percepiamo il tema il comunicato della forma non semplicemente in una visione spaziale ma attraverso un percorso che facciamo e attraverso una trasformazione è la prima volta che un'opera prevede un'azione in questo caso fisica da parte del fruitore questo è grandioso va di questa forma non è mai stata capita è cominciato ad essere capita sul serio a metà del novecento anzi dopo la metà del novecento ed è una forma incredibile qui avete la stessa cosa con delle foto più affascinanti ma dove si vede bene e questa è la sequenza lo vedete che veramente si trasforma crea un discorso bene adesso vediamo cosa succede adesso facciamo un saltello di un 300 anni o di più dal momento del rinascimento cioè da questo punto non ci sarà più un percorso lineare nella storia dell'arte ma all'interno dello stesso gruppo di popolazione ci saranno elementi che cominceranno a contrapporsi per cui dal rinascimento per esempio si passa al manierismo dal manierismo sempre il barocco il barocco è teacralità è tutta una serie di cose meravigliose ma che non possiamo perché non avevo tempo a un certo punto questo movimento questa gestualità stanca non basta più no c'è bisogno di un ritorno al pensiero alla purezza quindi neoclassicismo un canova pensate un bernini un canova due mondi altrettanto potenti ma che possono solo completarsi a vicenda eccetera 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 si va avanti fra luci e ombre e si arriva prima fino a un punto che naturalmente collima con la fine dell'ottocento di estrema materialità di estrema due palle insomma non saprei no per cui si arriva alla tarda accademia francese dove intanto abbiamo personaggi questo non nella tarda ma prima grandiosi come angra piuttosto che della croix quindi anche qua qualcosa di questo ingress o angra quindi purezza silenzio perfezione dall'altra parte possiamo dire pensiero della croix colore movimento atmosfera azione precorre l'impressionismo per certi aspetti ma a un certo punto si arriva a questo momento stanchi non basta più la cosa non basta più è finta ci siamo? è un rettaggio di qualche cosa che ha fatto il suo tempo e arrivano magicamente mi vergogno farla così veloce ma perdonatemi arrivano magicamente gli impressionisti gli impressionisti chi sono? questo è Manet che gli impressionisti hanno sempre voluto che fossero impressionisti e l'unico dinamica tanto anche se ha sempre partecipato alle mostre impressioniste bene ora succede che praticamente detto a soldoni dell'impressionismo si dice basta basta luci finte basta pose basta situazioni costruite in studio basta scala gerarchica di temi da rappresentare basta dobbiamo portare quello che è reale l'impressionismo paradossalmente da una parte è la partenza di tutte quelle che sarà quella che sarà la grandissima rivoluzione delle avanguardie artistiche dall'altra parte invece è proprio l'ultima il colpo di coda di un certo tipo di figurativo gli impressionisti non vogliono assolutamente far confusione loro vogliono semplicemente cercare qualche cosa che sia reale ci siamo? e quindi la realtà per primi dove la vedo? dov'è la realtà per loro? è quello che l'occhio vede è quello che l'occhio percepisce e il tutto diciamo che parte un po' con un lavoro come questo questo lavoro fa che è fondamentale e a noi sembra classicissimo cioè questo chiunque di noi una riproduzione di questo la mette dove vuole lo capiamo tutti questo lavoro fa più scandalo delle cose più violente di body art di questi anni ma perché? è ovvio perché? beh perché lei è nuda e loro sono tizioni brava perfetto allora vediamo questo lavoro qua Tiziano e Giorgione posso dirti che era prevedibile ha 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 c'è la stessa cosa identica ma qua possiamo dire si ma è una donna ideale non è una donna reale ma insomma sono nude e son vestiti ci siamo? diciamo che non è così potente la differenza da creare uno scandalo del genere Eppure porta qualche cosa che sarà la base di tutto quello su cui si muoverà l'arte contemporanea e moderna, che è questa. E l'altro è Campestre, Allegoria Campestre, di Giorgione e Tiziano. E quindi quanto tempo è passato? Sono passati 200 anni, un po' di più. La data esatta di quando è stato esposto? Me lo ricordo, nel 1880 qualcosa, ma non è importante, cerchiamo di vedere le cose importanti, le date sono così, interessanti. La vera rivoluzione è questa. Questa è la giusta prospettiva di questo lavoro. Che cosa fa Mané? Cancella in parte una prospettiva in profondità, diventa piatto. Ok? Guardate la differenza fra i due. Questo è come cambiare il nome di un faraone. Sconvolge tutto. Si siamo, è considerato un folle. Uno che è impazzito. Il secondo è una ricostruzione della giusta prospettiva del lavoro. E' una ricostruzione fatta in computer della giusta prospettiva. Bene, quella è la grande forza. Il fatto di cominciare ad appiattire il lavoro. E voi direte, perché? Allora, intanto c'è una parentesi veloce da fare, che è quella della prospettiva lineare. Che è la prospettiva nostra, proprio, pom, che va in profondità, è finta, ma dà un'immagine, un'idea, nel bidimensionale, di una tridimensionalità. È una conquista, da un certo punto di vista, ma non è che possiamo pensare che precedentemente non si fosse abbastanza pronti a una cosa del genere, semplicemente non serviva. Cioè, per il momento evolutivo, per quello che doveva essere portato, si utilizzavano altri tipi di prospettive. Nel momento in cui l'uomo diventa uomo, entra completamente, in tutti i sensi, nel suo corpo, abbiamo bisogno anche di una prospettiva, no, che porti la realtà di questo elemento. Per cui il momento del rinascimento è il momento in cui questa cosa immediatamente si espande, viene studiata, viene portata ai massimi livelli. Ma, subito, è una prigione. Subito è limitante, in quanto è troppo fisica. Per cui, un'altra volta che ci incontreremo, lo vedremo, sia Leonardo che Raffaello che Michelangelo, attraverso dei trucchi, ingannano questa prospettiva. Voi avete, nella scuola di Atene, nel Cenacolo, nel giudizio universale, dove avete addirittura una prospettiva rovesciata, avete delle prospettive che sembrano giuste, ma non lo sono assolutamente. Invece, in un'accademia di fino ad 800, nel modo di fare arte di fino ad 800, è proprio pesantemente portata. Ci si libera un po' da questo legame. A un certo punto si dice anche, teoricamente, l'occhio non è che vede, no? Con la luce, con tutto quanto, si appiattiscono i toni. Colgo delle cose. Per poter portare questo elemento, la prospettiva comincia a sparire. La prospettiva comincia a sparire. Questo è il money, invece. Abbiamo anche un po' di luce, ma fino a quelli che tutti noi conosciamo. Questa è una grandissima rivoluzione. Questo darà il là a tutti gli altri, nel senso di dire, si può fare, si può andare oltre. Adesso veramente facciamo una cosa veloce. Da qui, sempre money, scusate, per alcuni aspetti anche pagre di un certo tipo di informale. Adesso cerchiamo di vedere i passaggi successivi in una maniera un po' diversa. In modo da capire anche che cosa succede quando si appiattisce nel lavoro. Quindi cerchiamo di prendere in considerazione i vari passaggi nella storia dell'arte moderna in base all'esposizione di questi lavori. Allora, questa è la Morse Gallery a Louvre nel 1833. Qua ci sono dei pezzettoni da paura nei quadri esposti. Un horror vacui. Ci siamo? Tutto uno attaccato all'altro. Uno sopra l'altro, eccetera, eccetera. Eppure i lavori non ne risentono. Ci siamo? Ogni lavoro può stare così. Sì, adesso noi, per una questione di gusto del tempo, non lo faremo mai. Anche di cambiamento proprio di certe cose, non lo faremo mai. Questa è una galleria contemporanea ancora abbastanza blanda. Cos'è successo? Questa è di nuovo una galleria. Allora, succedono due cose che vi dico dopo aver visto un paio di immagini, così ci portiamo avanti e non sgarriamo troppo quei tempi. No. Sero. No. Sono brutto, così. Sero. Per alcuni aspetti molto importante per il cubismo e per un filone di pensiero nell'arte moderna importantissima. No? Prende praticamente solo la tecnica impressionista, la estremizza e arriva a un gioco, a un pontillismo che diventa proprio nella sua immobilità, cioè perde questa realtà, ma proprio nella sua immobilità è di grande importanza. Van Gogh. Un cuore con un pennello in mano. No? Cosa succede? Non è più un tratto che vibra per portare quello che il mio occhio percepisce, ma ogni tratto è un grido, è una parola, è un'emozione, è una... è forza. È fantastico lui, no? Indubbiamente. Qua siamo già nel post-impressionismo. Cézanne che dice praticamente bello, sì, bello, si sente il vento, guarda, piove, sì, qua, ma la pittura dove è finita? Dove è finita la solidità del lavoro. Quindi un lavoro assolutamente personale che sarà basilare per tutti quelli che verranno dopo di distillazione della forma e del lavoro. Ci siamo? Fino a sfiorare un inizio di cubismo. quindi, le cose cambiano. Cosa c'entri tu qua? Sì, è giusto. No, perché lì ne vedo due. Bene, a questo punto succede qualche cosa di veramente importante. intanto vedete che in tutti questi lavori sempre di più il lavoro è piatto. Sempre di meno c'è profondità. Sempre di più meno cornice ha, meglio è. Nel 1970, 80, mi ricordo, io con le date sono un disastro, è per quello che dico che non sono importanti. viene fatta una mostra, una retrospettiva a New York degli impressionisti dove tolgono le cornici. È una... A Trieste si dice una verta. Veramente esplodono. E succede un'altra cosa. Diventano, noi accettiamo questi lavori adesso, sono passati più di cent'anni, ma ai tempi non era così semplice e facile accettarli. Succede una cosa molto particolare. A un certo punto, come ha detto Stefano, Gasperi, Dio muore nella natura. Non c'è più. Diciamo che prima per tutto un certo periodo si era ispirati dal Dio. Poi questo se ne va. E nel in questa seconda parte dell'umanità è la natura la fonte di ispirazione, ma io non sono più ispirato, io devo andare a cercare e a elaborare la natura per trovare questa cosa. Un greco lavorava senza modello. Siamo e arrivate alla scultura greca. Nel Rinascimento si arriva altrettanto in una maniera altrettanto grandiosa, ma c'è bisogno di sezionare i cadaveri, di studiarli, di entrare là dentro. Ora, questa natura non basta più. Non basta più perché questo Dio, questo elemento spirituale che io provavo fuori, fuori non lo provo più. Dove lo provo? In me. Bravissima. Ci siamo? Quindi il campo di ricerca quale diventa? La mia interiorità. Non è un caso se la psicanalisi nasce in questi anni. E entrare in un inconscio, in un subconscio, nell'interiorità e negli aspetti più biechi dell'interiorità era veramente qualcosa di pericoloso, letale e difficilissimo. Adesso siamo pieni di persone, studiosi, medici, assistenti, biblioteche che possono adesso conosciamo in parte questa cosa, ma ai tempi no. Quindi la cosa però interessante è che l'arte, la scultura e la pittura soprattutto sono sempre stati l'unico linguaggio universale. C'è un albero rappresentato era un albero per chiunque in qualunque posto del mondo e in qualunque tipo di umanità. Ci siamo? tutti potevano comprenderlo. Poteva nascere mi piace, non mi piace, eccetera, ma tutti lo comprendevano. Adesso nel momento in cui io cerco in me questa cosa non è più possibile avere un linguaggio universale. Quindi non posso più rivolgermi alla natura, ma comunico qualcosa che è solo mio. Per comunicare qualche cosa che è solo mio e in questa impellenza di comunicarlo io devo trasformare la natura. Mi seguite? Quindi paradossalmente più è forte l'esigenza di comunicare dal novecento in poi più incomunicabile diventa. più incomprensibile diventa. Infatti nasceranno i manifesti dei vari gruppi. Praticamente le istruzioni Ikea come noi lavoriamo come dovete montare e leggere questo quadro. Ci siamo? Fatemi pure domande eccetera, eccetera. Ma questo è molto importante perché comincia veramente a essere portato qualche cosa di personale. ora qui noi entriamo oppure qualche cosa di più ampio generale ma trovato e visto nel personale nella propria individualità. Ora qui siamo in un momento di rivoluzione. Dimmi. Qual è il manifesto di questo che stai dicendo ora? Il primo quadro che conferma quello che stai dicendo come mai affetto questo? Cosa stavo dicendo? Stavi parlando di una rivoluzione esatto è una rivoluzione una rivoluzione è caos il caos è un punto fondamentale in una metamorfosi c'è una forma a si intensifica si complica perde in purezza fino poi a diventare un'altra forma che sarà completamente diversa dalla prima ma che deriverà per certi aspetti dalla prima questo è un momento adesso per una ventina d'anni trentina d'anni venticinque tutta l'attenzione sarà nel demolire un certo tipo di fare arte e di vedere le cose e l'altra parte invece sarà nel cercare qualche cosa di nuovo quindi qua veramente si tirano le bombe e si arriva a delle cose che c'è c'è una perdita effettiva di qualcosa di grande ma c'è anche la conquista di qualcosa d'altro e non è che tutto è giusto è tutto importante è tutto fondamentale a questo punto noi non possiamo più vedere questi lavori con un sistema con un concetto di bello che siamo abituati ad usare se io vado a vedermi per esempio questo e utilizzo un concetto di bello è brutto se io non utilizzo un concetto di bello tradizionale che devo continuare a utilizzare su altre cose invece ne colgo la forza e il senso diventa altrettanto bello in un altro modo ci siamo? lo sforzo è quello uno dice metto davanti a un taglio di fontana cos'è quella roba lì che faccio anch'io perché l'ha già fatta lui e poi adesso vedremo anche che cosa succede dovete pensarla in un altro modo attenzione che questo non vuol dire che da adesso in poi bisogna lasciare perdere quello che per noi è bello adesso avete sentito ieri esaustivamente delle cose ma dobbiamo semplicemente interpretare o cercare di capire perché la comprensione a questo punto è fondamentale è fondamentale che ci sia un'azione da parte di chi guarda siamo e anche uno sforzo di capire almeno per questa parte di mezzo bene allora in questo senso nel 1905 grazie ci sono due mostre contemporanee quella dei Faux e quella della Brücke da una parte i Faux de Rennes Matisse adesso che ci vi ho davanti non li ricordo che praticamente dicono detta soldoni anche qua dicono ok bene a questo punto allora perché cioè a questo punto io posso interpretarla veramente la natura ok quindi quello che conta non è più io rappresentato ma è il quadro cioè non sono gli alberi che io rappresento nel quadro il quadro è il quadro gli alberi no per cui utilizzo i colori non naturali utilizzo quello che voglio Matisse un grandissimo arriva l'appiattimento totale del lavoro ci siamo? dall'altra parte la Brücke la Brücke che invece è la nascita dopo Munch maestro assoluto eccetera di quello che sarà l'espressionismo quindi in due parole che mi frega di vedere quello che c'è fuori l'importante è quello che io ho dentro quindi buttalo fuori portalo in violentemente in tutti i modi eccetera 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 a questo punto sempre quasi contemporanei o contemporanei fra di loro no ci sarà una corrente degli artisti che andranno in un senso un senso più di cuore o di azione e dall'altra parte invece un elemento di pensiero finché arriviamo al grande maestro grandissimo maestro fondamentale maestro per quanto stronto potesse essere come persona e per quanto possano esserci antipatici alcuni dei suoi lavori che è Picasso Picasso è fondamentale per tante cose poi si monta la testa tutto quello che volete non si è comportato benissimo ma è fondamentale e anche qui si arriva a questo lavoro a questo quadro uno dei più brutti quadri della storia dell'arte moderna lui lo tiene arrotolato e lo mette via non finito eccetera eccetera ma che darà il via a qualcosa di grandioso per i nostri tempi darà il via al cubismo quindi darà il via al fatto di dire ok basta adesso adesso per arrivare a una nuova dimensione per arrivare a una nuova arte a un nuovo modo di lavorare io non posso basarmi sul sentimento sulle cose l'unico campo che mi permette un questo ampliamento questa entrata diversa questa espressione questa conquista è quello del pensiero quindi io giustamente quindi io nel cubismo cosa succede? in pratica si frammenta la figura si ricompone la figura nella ricerca non riuscita per certi aspetti di una nuova dimensione un dentro fuori una contemporaneità di aspetto il cubismo non esiste perché Picasso Braque Gries un pochino ma soprattutto Picasso Braque arrivano a questa cosa grandiosa si rifiutano di chiamarla cubismo cioè il cubismo proprio non hanno mai voluto avere a che fare con il movimento cubista il movimento cubista nasce sulla scia del loro successo da ok questo critico amico di Picasso come si chiamava? pazienza e quindi il movimento cubista nasce sulla scia di loro due ma loro si limitano a cubicizzare delle cose e non è che più di tanto senso abbiano mentre loro due sono stati veramente quelli potenti quindi un cubismo analitico prima una scomposizione e ricomposizione del lavoro stando sempre molto attenti a non cadere nella stratto completo fino a un cubismo sintetico quindi una distillazione di questa cosa una riconquista del colore un inizio di minimal interessantissimo e varie tecniche e cose Picasso che uno diceva quella roba lì quando aveva 14 anni lavorava così ok quindi aveva 15 quindi aveva 16 Picasso ha finito l'accademia di belle arti aveva 16 anni credo e alcuni suoi lavori dell'ottocento di quell'età lì sono considerati fra i più grandi lavori figurativi naturalistici di questo tempo non è un cretino che è un modaiolo lui stesso dice la mia opera si può vederla solo nel mio percorso e non in un singolo lavoro io ho messo ci ho messo tutta la vita sono nato che sapevo disegnare come Raffaello ci ho messo tutta la vita per imparare a disegnare come un bambino bene accade anche un'altra cosa in questo momento perché il fatto di cercare in sé ha un limite c'è più di tanto oltre non posso andare manca qualcosa c'è una c'è una ricerca di qualcosa d'altro fondamentale per l'arte di questo momento ma non per l'arte antroposofica per l'arte arte l'altra quella ufficiale è Steiner fondamentale fondamentale per Kandinsky fondamentale per Mondrian fondamentale per tanti altri fondamentalissimo per Beuze importantissimo per altri non tanto nella attraverso gli schizzi vari che ci ha lasciato eccetera ma proprio attraverso questo elemento di pensiero la filosofia della libertà è alla base di tutto il lavoro di Joseph Beuze per esempio il Goetheanum sarà il sogno di un Kandinsky la costruzione di una di un'architettura globale unita a tutte le arti eccetera Kandinsky sarà legatissimo anche alla Blavatsky e al movimento teosofico ma la cosa che ci importa di più in questo momento è che a un certo punto nel 1910 si arriva contemporaneamente in tre punti d'Europa da tre artisti diversi a dire bene allora non è neanche più necessario copiare o trasformare qualcosa si può partire da un suono puro da un gesto da un colore nasce l'astrattismo l'astrattismo non è unismo ma è un ambito come il naturalismo che contiene tutte le varie robe l'astrattismo un altro Kandinsky ci arriva con il primo quale l'astratto Mondrian ci arriva con questi suoi lavori che sarebbero da vedere dal vero perché per esempio ogni bianco è diverso è veramente una meditazione portata nel più profondo si arriva a Malievic con quadrato nero su fondo bianco e quadrato bianco su fondo bianco pensiero puro minimal essenza questo è carino questo è il passaggio questo è il passaggio di Mondrian si può accennare questa teosofia per favore no non si può accennare la teosofia sono dobbiamo cioè ci sono anche persone che possono di cui possono parlarti che possono parlarti di questa cosa molto meglio di me la teosofia è stato un movimento molto importante che si basava soprattutto sull'insegnamento di Madame Blavatsky a cui è stato legato per un certo periodo anche Steiner prima di passare a fondare la sua antroposofia ma adesso non possiamo proprio perché ci metteremo almeno due ore bene quindi saltando tantissime altre cose arriviamo al vero cambio al personaggio chiave al giro di boa il dadaismo quindi distruzione distruzione sistematica di tutto ironica fantastica ma soprattutto a lui l'unico grandissimo meraviglioso Marcel Duchamp Marcel Duchamp che non è uno che vi ha preso in giro anche ma ha avuto un senso Marcel Duchamp che cosa fa a un certo punto della sua vita personaggio incredibile uno dei più grandi scacchisti che abbiamo avuto in Europa pensiero di una libertà e di una potenza formidabile si rifiuta di prendere soldi dall'arte farà il bibliotecario per tutta la vita e sarà fondamentale per tutta una serie di movimenti questo è quello che conoscete di più questo lo conoscete meno porta bottiglie e questo è il crionfo ora che cosa succede qua succede qualcosa di fondamentale in pratica detto anche qua molto semplicemente Marcel Duchamp prende un oggetto comune lo decontestualizza e lo pone in un altro tipo di spazio adibito all'arte a quel punto lì l'oggetto diventa arte questo cosa vuol dire a metà questo no c'è una firma cioè non è neanche una firma è un dimmi è uno pseudonimo non lo so se corrisponde alla verità in qualche modo restaurando l'oggetto io non so che in qualche modo esiste un velo di colore che però non c'è non lo so non l'ho mai sentita però non è importante cioè i suoi oggetti veri li ha buttati via quasi tutti la sorella che facendo ordine li eliminava tutti giuro non è una battuta e lui a un certo punto dice cioè lui arriva anche a dire ok il mio nuovo readymade è questo è questo readymade di di Duchamp la cosa fondamentale è le cose fondamentali sono ah che a un certo punto lui dice bene allora l'arte io posso fare arte quello che fa arte è un'idea non una realizzazione della cosa ci sono gli artigiani c'è tutto ma è nell'idea l'arte la seconda cosa l'importanza dello spazio in cui l'opera si trova o che l'opera crea questo è importantissimo Catellan che conosce tutti conoscete Catellan dice lui dice io non ho mai toccato niente non saprei neanche come si usa una matita ma lavoro attraverso le idee Canova faceva un bozzetto poi c'era tutta una serie di operai che facevano la cosa lui rifiniva solo l'ultima patina fondamentale ma ok ma il problema adesso il principio veramente unico è che l'arte l'elemento artistico l'azione artistica è nell'idea ovviamente un certo tipo di idea e non un'idea così X ci siamo? poi riprendiamo il discorso espositivo abbiamo visto che i quadri e i lavori si appiattiscono sempre di più giusto? che cosa succede quando si appiattiscono? tra l'altro anche nella scultura comincia a sparire il basamento il basamento è quello nella scultura che per esempio è la cornice per il quadro c'è anche un altro problema lì c'è una scultura piccola devo tirarla su per cui va bene comunque no Rodin è uno dei primi questi sono i borghesi di Calais bellissimo lavoro che poi è stato messo comunque su un piedistallo adesso per fortuna l'hanno tolto no Giacometti fino ad arrivare al grande a Brancusi che trasforma il supporto in scultura quindi non c'è più uno stacco fra scultura e base ma è un tutt'uno un po' come quando Seurat continuava il dipinto sulla cornice e lo faceva uscire che cosa succede adesso appiattendo il lavoro la cosa più importante un lavoro in una cornice un lavoro nell'arte antica nell'arte di prima più che antica si entra è una finestra voi entrate in profondità sul tema ci siamo? adesso il lavoro si appiattisce non c'è più questa entrata comincia a premere sui lati e comincia a coinvolgere lo spazio intorno adesso un lavoro di qualunque tipo ha bisogno di spazio se mettete due lavori troppo vicini scridono si danno fastidio si soffocano ci siamo? quindi possiamo dire che abbiamo nel contemporaneo un passaggio da uno spazio materico illusorio a uno spazio reale immateriale quindi vuol dire che quello che prima era mostrato piano piano si porterà fuori prenderà uno spazio non dipinto non agito già e comincerà a creare semplicemente un ambito di azione da parte del fruitore e questa è la cosa fondamentale del contemporaneo non di tutto ovviamente che c'è un mucchio anche di cacca ma questo è importantissimo ma c'è sempre cioè noi adesso abbiamo i grandi del rinascimento ma perché la cacca l'abbiamo è stata dimenticata capisci? il sottobosco c'è sempre ma alla base c'è qualcosa di veramente importante Brancusi questi sono alcuni i suoi lavori quindi ho messo il 4 perché lo amo molto un lavoro interessantissimo per esempio di Brancusi sarà questo che dà veramente un qualcosa di nuovo questo è sgarro scusa questo è per esempio la tavola del silenzio questo è un'installazione che lui fa in Romania la tavola del silenzio la tavola del silenzio che altro non è che una ripresa del suo banco di lavoro praticamente con queste 12 sgavelli di ritorno poi si va avanti camminate e arrivate alla porta del bacio porta del bacio che altro non è che un'evoluzione di una sua scultura molto famosa molto importante che è il bacio e poi arrivate alla colonna senza fine che altro non è che un'evoluzione della base che diventa scultura e quindi idealmente questa è alta 38 metri la vedete perdersi nel cielo ci siamo? bronzo la porta è in questo paese impronunciabile e dopo te lo dico in Romania quindi sono questi tre elementi cosa abbiamo qua? abbiamo tre forme tre sculture che non dicono nulla cioè più di tanto non dicono sì carino ma uno incontra il primo dice qua è dove si fa picnic no? la porta dice ah guarda adesso cosa succede? succede che quando c'è quando si esprime l'arte quando funziona questa forma solo nel momento in cui un fruitore partendo dalla tavola del silenzio attraverso la porta del bacio arriva alla colonna senza fine in quello che lui sperimenta in quello che lui percepisce in quello che lui vive seppur guidato perché è abbastanza semplice dal silenzio interiore tutto quello che volete attraverso l'amore fino a un nuovo mondo a un nuovo livello o interpretatela come volete ma è sperimentato non è dato capite? questa è la grande differenza la grande differenza è che non viene più l'immagine non è data ma è un'immagine da creare ed è il fruitore che deve crearla quindi ci deve essere anche un certo livello di silenzio da parte dell'artista e soprattutto il campo di azione dell'arte adesso non è più dentro di me basta ha fatto il suo tempo ma è fra me e l'altro cosa c'è di più grande e potente di questa cosa? quindi non è una mia crescita come artista io colgo determinate cose e te lo porto come immagine e tu ne fruisci cosa da che fare con la fiaba? brava e qualcosa anche di arcaico dopo me lo dici sì sì dopo lo dici ma se mi interrompo adesso mi perdo scusa quindi c'è questo c'è questo portarsi cioè fra me e l'altro accade l'azione artistica ed è lì che devo rivolgermi chi per esempio allora vediamo anche un attimo sempre Duchamp quindi l'arte adesso non è più questo elemento questa immagine può ancora esserlo ma non è più solo quello ma deve creare un ambito ambito che può essere ambiente o può essere anche semplicemente ambito ma un ambito dove il fruitore possa compiere un'azione un'azione che lo porti verso una crescita quindi per dirla la Joseph Beuys che a cui arriviamo fra poco vediamo questo questa è un'installazione del 1920 aspetta che 23 6 no di sempre di Duchamp assolutamente avanti per la mostra del surrealismo appende non so quante centinaia di chili di carbone in sacchi al soffitto pochi anni fa questa cosa viene ripresa da come si chiama Cunellis a Trieste qui ci sono tanti crestini l'avete vista no questa installazione sempre di Duchamp per un'altra mostra surrealista nell'ultima biennale voi avete visto uno degli unici lavori interessanti che è quello di questo giapponese che non mi ricordo come si chiama ok con le chiavi sì oppure il grande fontana perché è grande perché ha fatto un taglio grande perché veramente è un passaggio di stato è l'immagine è l'immagine veramente conclusiva del passaggio da una dimensione a un'altra la tela stessa prende una dimensione sfonda prende un ambito crea delle ombre si passa da un bidimensionale a un tridimensionale ma soprattutto a una quarta dimensione dove si può intervenire poi il fatto che questo venga ripetuto commercialmente eccetera eccetera lì ho tutto posso dirti anche tutti gli aspetti negativi e sono importantissimi ma partiamo dai positivi che è più interessante non c'è più la forma non c'è più la cornice il quadro comincia a entrare nel nello spazio in maniera diversa oppure Klein Klein il grande Klein che segue anche lui legatissimo la cosmogonia dei Rosa Croce diventerà per tutta la vita il suo testo di studio più importante e lui nel suo lavoro cerca e arriva arriva concettualmente ma ci arriva a creare semplicemente un ambito dove dice qualunque cosa l'artista Porti è già una limitazione per un elemento un'essenza pura spirituale ovviamente un'utopia quindi arriva prima ai monochrome ma soprattutto la vid la vid è questa mosca che lui fa in questa galleria dove lui entra in questa galleria e dipinge per giorni tutto di bianco e la carica della sua di questa sua meditazione nel lavoro la apre ed è completamente vuota e dentro questa galleria completamente vuota si poteva entrare uno due alla volta arrivano 3000 persone arriva l'esercito per cercare di gestire la situazione chicca viene servito un aperitivo blu che per due o tre giorni farà fare la pipì blu o verde a quelli che sono andati a vedere questa cosa no e non è stata c'è stato sì erano anche gli anni dove si aggredivano queste cose ma veramente ha colpito a Parigi mi sembra il grande Klein o che vende spazi e pezzi d'aria ok zone di sensibilità pittorica che venivano pagate ma pagate pagate no dopodiché il pagamento di questa cosa che doveva essere fatto in oro mi sembra veniva sbriciolato per metà nella senna no e l'altra metà andava a creare degli ex voto particolari o la sua azione più geniale no teatro du vide teatro du vide lui dice ok tutti gli abitanti della terra sono saranno del pubblico di questo teatro no si arriva a coinvolgere il tutto naturalmente il teatro sarà chiuso non ci sarà dentro fisicamente nessuno Duchamp per arrivare a quello che dicevamo prima eh Duchamp Beuys Beuys la sua storia è meravigliosa a un certo punto per farla brevissima possiamo dire che muore due volte quasi c'era questo passaggio la prima volta viene salvato attraverso il calore la seconda volta viene salvato attraverso l'amore lui arriva a dire ok quello che trasforma l'unico mezzo di trasformazione nella materia è il calore nell'anima dell'uomo è l'amore e arriva a dire arriva a dire un'azione artistica funziona solo se è fra me e l'altro nel momento in cui attraverso un cortocircuito una qualunque cosa io creo nell'altro la possibilità di arrivare a un pensiero libero e non ordinario a quel punto lì l'altro arriverà a un pensiero creativo a quel punto lì l'altro sarà un artista questo è fondamentale ci siamo? è necessaria è necessaria questa azione ovviamente qui siamo ancora nell'incomprensibile siamo ancora in rivoluzione se volete ci siamo? qua ci sono alcune immagini di sue performance che non abbiamo tempo purtroppo di vedere cioè di parlarne 7.000 querce fantastico 7.000 nella piazza di Cassel 7.000 blocchi di pietra orribili ogni blocco dura 5 anni questa azione mi sembra ogni blocco viene venduto quando viene venduto viene firmato da Bois ti viene data una pala insieme a lui o a un suo adepto questa pietra viene posata per terra piantata per terra e di fianco viene piantata una piccola quercia ci siamo? nell'arco di 5 anni attraverso il denaro attraverso il pensiero si arriva a un'azione sociale ed ecologica al posto delle 7.000 pietre avremo un bosco di 7.000 querce ci siamo? questo non ve lo dico neanche perché vi arrabbiate Bois dice una cosa di Bois molto bella la capacità umana non è quella di produrre il miele ma di pensare di produrre idee in questo modo il carattere necrotico del pensare diviene nuovamente vitale quella è arte quello è il campo di azione artistica Cristo è colui che avvia una nuova qualità umana nel pensare questo è da dove è tratto bene allora per concludere no dieci minuti me li prendo perché anche se chi dieci per concludere ora abbiamo cosa possiamo dire rispetto all'arte fino al 900 un'arte prima rassicura l'arte contemporanea inquieta l'arte dà risposte prima adesso nel contemporaneo pone delle domande richiede un'azione l'arte accompagna quella di prima richiede un'azione individuale adesso raggruppa in un certo momento perché comunque c'è una guida una guida che porta l'immagine eccetera l'arte contemporanea individualizza differenzia c'è una catechesi dell'arte precedente l'arte precedente catechizza un pochino lo ha sempre fatto quella contemporanea la direzione che va è verso la libertà c'è una gerarchia nell'arte antica la gerarchia è quella del pittore iniziato eccetera io ne godo a secondo del mio livello lo leggo e ne prendo c'è assolutamente antigerarchica perché nel momento stesso in cui si trova fra me e l'altro io e l'altro dobbiamo essere sullo stesso piano ci siamo o devo aiutare a portare l'altro sullo stesso piano l'arte prima è un pensiero che lavora però sul sentimento nell'arte attuale l'unico campo di libertà che abbiamo è quello del pensiero di un certo tipo di pensiero lavora direttamente sul pensiero l'arte del prima lavorava sul bello canonico di quel momento l'arte attuale lavora sul vero adesso si è riunita fortunatamente il bello l'arte antica creava una finestra su un'immagine un'immagine creava una finestra su una situazione l'arte contemporanea crea un ambito di azione meno descritto è questo ambito di azione più possibilità di un'attività propria più differente dall'ordinario è questo ambito di azione più sono costretto se voglio e se sono in grado di farlo di entrare in un nuovo modo operandi di pensiero ok ora velocissimo la situazione è cambiata ancora cioè ha cominciato così come dopo i primi anni del novecento se c'è un ritorno all'ordine anche adesso dopo tutto questo caos proseguono tutti questi pseudo minimalisti questi pseudo surrealisti pseudo tutto che ci ha rotto proprio i maroni perdonatemi ma si ritorna a un ordine rinasce ritorna la necessità di una universalità di immagine quindi io si sente si capisce che c'è a un certo punto se io non leggo tutto quanto e non capisco niente quindi l'arte perde un pochino qualcosa quindi le tendenze ultime adesso sono tre diciamo una è quella di lavorare in un tipo di astratto davvero interessante ma andiamo per ordine una è quella di un ritorno al al figurativo ma un figurativo veramente spinto dove però attraverso interventi noi decontestualizziamo e portiamo a un alto livello anche cioè la dimensione per esempio il luogo lo spazio il luogo per l'arte è fondamentale finché non diventa il luogo a fare l'arte di questo purtroppo non riusciamo a parlarne ma ritenetevi anche questo questo è come si chiama che miseria dopo ve lo dico eh intanto muove oppure un ambito di azione grandioso Marina Abramovic Marina Abramovic la nonna delle performance l'ultima rimasta un personaggio veramente grande fa un percorso particolarissimo prima lavora su di sé con le performance storiche anche autolesioniste eccetera si si poi lavora insieme al marito e artista quindi lavora sul rapporto con l'altro in modo veramente interessante magari non piacevole quello sicuramente no però interessantissimo fino ad arrivare poi da sola su qualcosa di molto più potente molto più forte questo per esempio Balcan Baroc è stato un intervento fatto quando è scoppiata la guerra nei Balcani poco dopo alla Biennale di Venezia dove lei per tre giorni è stata seduta su un mucchio di ossa piena di carne sotto c'erano ossa secche bianche lavate sopra c'erano queste ossa piene di carne e lei sopra queste ossa piene di carne per tutto il tempo recitando anche delle cose cercava di pulire con una spazzola questa carne inutilmente perché la cosa non serviva intanto tutto quanto impucridiva creando vermi mosche odori terrificanti e contaminando anche le ossa sotto intanto che alle spalle c'erano delle proiezioni di lei che narrava una storia terrificante su come uccidono i topi che non è vero nei Balcani e poi c'erano immagini della magra del pagra e tutto il resto una performance veramente interessante anche se molto forte dove la gente stava male anche semplicemente per l'odore ma ti fa scattare qualcosa ma soprattutto il l'intervento l'operazione che lei fa al MoMA di New York un po' di anni fa dove non abbiamo tempo quindi non possiamo ascoltarla anzi ve la tolgo vi tolgo l'audio vi tolgo l'audio 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 leggete intanto parlo dove lei praticamente per tre mesi si siede davanti si siede e 800.000 persone arrivano 850.000 persone qualcosa del genere si siede e la persona chi vuole si siede di fronte a lei e semplicemente si guardano ma non si guardano no lei riesce a aprirsi in questo sguardo in un ascolto incredibile accadono veramente cose fortissime in questa in questa piccola idea piccola insomma sì ma non così non così forte oppure abbiamo personaggi come la Beth Caverner sempre che sempre ritorna sul figurativo o figurativi in pittura molto forti oppure abbiamo personaggi adesso lo vediamo dopo questo per esempio è Valport questo è Legno questo è Legno questo è Legno un grande Demetz sempre Legno o Anish Kapoor un questo è solo uno dei suoi lavori un un astratto di una pulizia estrema con degli interventi anche interessantissimi in ambiti oppure è morta poco tempo fa pochi anni fa pochissimi la grande Louis Bourgeois siamo appena stati dov'è che è? a Bilbao è veramente incantevole questa cosa che crea queste celle comunque questi ambiti bene allora mi dai cinque minuti per le domande un minuto per le domande un minuto mi davvero intanto di aver fatto tardi ma sono contentissimo e di aver trattato un tema un po' scottante ovviamente c'è tutta la parte buia il commercio lo scrapotere della galleria le coppie il sottobosco la politica come in tutto cioè questa sfera economica non è che ha lasciato da parte la committenza c'è sempre stata ed è fondamentale ma vi faccio vedere una cosa intanto che parlo finché non è stata anche lei inglobata dal commercio dal sistema economico il primo movimento artistico reale che è nato in questi anni antimuseale antigalleria anticommercio antitutto anche se poi è stato inglobato no è stato per esempio quello della scrittart non graffitari ma artisti che entrano in zone degradate e attraverso piccoli interventi cui lui inserisce nei musei quadri tipo questo che veramente svegliano un ambito un ambito dove comunemente uno passa scrittart da cui è nato poi guerrilla marketing tutta una serie infinita di cose molto importanti e anche questa purtroppo è finita in un commercio molto forte sono rimasti pochi puristi diciamo questo è grandioso questo è borondo borondo dipinge solo a rullo neanche utilizzando spray viene interessante perché è ricercato non so quante migliaia e migliaia di euro di multe dall'altra parte i comuni lo chiamano per rivitalizzare quartieri in decadimento questo dialista sono veramente potenti capite che comunicano qualcosa vi fanno pensare se voi vi trovate passando una cosa del genere no cominciate ad avere a farvi almeno delle domande o come JR dove che interviene con questi sticker giganteschi o qua sono gli interventi nella parte di Alice Island abbandonata andiamo velocemente 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 una è azione performance ancora e una pura e una è aspetto forma libera lui bravissimo spy e chiudiamo con questa questa è una scritta enorme fatta tutte con le monetine è durata tipo 6 ore mi sembra oppure mette telecamere in posti assolutamente improbabili o questo zero like che lui fa per questo barbone e che gli cambia la vita perché tutti cominciano a dargli denaro bene signori grazie perdonatemi grazie grazie a tutti